E' iscritta a parlare la deputata Grillo, ne ha facoltà. Sì, gentile Presidente, gentili deputati e deputate. Abbiamo già ascoltato diversi interventi, quindi vi sarete fatti, spero, un'idea sulla complessa tematica che stiamo vivendo in questi giorni in Commissione Affari Sociali, che abbiamo vissuto noi come Movimento 5 Stelle da quasi tre settimane. Avevo preparato un discorso, però credo che leggerò solo una piccola parte, perché in realtà già sono state dette molte cose. Allora, noi del Movimento 5 Stelle, come un po' avete imparato a conoscere e a conoscerci, sapete che operiamo secondo il principio della trasparenza e secondo il principio dell'onestà intellettuale. Sapete anche, e se non lo sapete e lo ricordiamo, che siamo un movimento politico libero, libero da pressioni di qualunque tipo. Ed è con questa missione che noi abbiamo deciso di operare in questo Parlamento, dentro le istituzioni. E' per questo che da tre settimane con gli amici, con lei, amici, della Commissione Affari Sociali, abbiamo cominciato a studiare, ad approfondire una tematica che sapevamo che sarebbe stata molto complessa. Sia proprio per il numero e la quantità delle informazioni che dovevamo assorbire e fare nostre, sia per la pressione mediatica che accompagnava questa tematica. E l'abbiamo fatto facendo delle audizioni informali con quelli che erano tutti i soggetti coinvolti in questa vicenda. Abbiamo incontrato l'Istituto Superiore di Sanità, abbiamo incontrato l'AIFA, abbiamo incontrato il professore Vannoni e il dottore Andolina. Abbiamo parlato, alcuni di noi, con i parenti di alcuni dei familiari trattati con questo metodo. Abbiamo parlato con medici, con biologi. Alcuni di questi incontri li abbiamo anche registrati e sono su YouTube. Poi siamo arrivati in Commissione e lì abbiamo continuato a studiare con i colleghi deputati degli altri movimenti e degli altri gruppi politici, con lo stesso interesse dimostrato da parte di tutti. E questo lo voglio dire perché il Movimento 5 Stelle è un movimento onesto e ammette la collaborazione quando c'è. La collaborazione c'è stata e sono contenta di dirlo perché questo rafforza la missione che noi ci siamo dati dentro queste istituzioni e rafforza anche il nostro progetto di cambiamento. Dicevo, quindi abbiamo affrontato e abbiamo rifatto le stesse audizioni. Quindi è impossibile dire, perlomeno per noi sicuramente, ma mi sento di parlare anche per gli altri colleghi in questo caso, che non abbiamo agito con la consapevolezza, con la coscienza e con la conoscenza di tutti gli strumenti necessari per poter valutare in maniera obiettiva una materia così delicata e così complessa. Non ammetto le accuse di pressione da parte di lobby perché tutti sanno che noi per primi siamo contro qualunque forma di lobby, in qualunque forma essa si esprima. E quindi siamo anche contro le lobby farmaceutiche, laddove e nelle circostanze in cui questa si esprima. Evidentemente, in questa circostanza, e per onestà intellettuale, noi non abbiamo rilevato questa pressione, non abbiamo subito alcuna di queste pressioni. Purtuttavia, rileviamo una cosa, rileviamo un concetto, come abbiamo già fatto in commissione. Allora, le cellule staminali, quando noi abbiamo affrontato questo argomento, tutti le descrivevano come dei farmaci. Io sono un medico e quando mi sono sentita dire che le cellule staminali sono dei farmaci, ho avuto un attimo di perplessità. Perché le cellule staminali, intanto, non sono dei farmaci, ma sono delle cellule. Poi vengono considerate farmaci quando vengono sperimentate e la normativa che regola questa sperimentazione dice che sono dei farmaci. Beh, naturalmente, noi siamo sempre molto critici anche rispetto alle leggi e alle norme. Non sempre quello che è scritto in una norma è giusto, può anche essere messo in discussione. Noi l'abbiamo fatto. La norma di cui stiamo parlando, e qui un attimo però mi devo collegare al discorso perché a memoria non posso ricordare tutto, è il decreto legislativo 24 aprile 2006, numero 219. Questo è il decreto, che è 2006, quindi è un decreto di quasi sei anni fa, quindi nella ricerca scientifica può anche essere considerato vecchio un decreto di sei anni. In questo decreto, che abbiamo letto con attenzione proprio perché vogliamo approfondire, ci siamo accorti che ci sono delle frasi che effettivamente rimandano al dubbio che le cellule siano dei veri e propri farmaci. Ve ne leggo alcune, scusate se vi annoio. Per i medicinali per terapie geniche e cellulari somatiche, i requisiti convenzionali contenuti nel modulo 4 per le prove non cliniche di medicinali possono non sempre essere adeguati, a causa delle proprietà strutturali e biologiche uniche e diverse dei prodotti in questione. Quindi il legislatore ammette che le cellule hanno delle caratteristiche uniche e diverse dalle molecole, e ci mancherebbe, compresi il grado elevato di specificità di specie, di specificità di soggetto, le barriere immunologiche e le differenze di risposta pleiotropica. Qua scendiamo un po' nel dettaglio. Comunque, continuo. Al punto 3.2 del modulo 5, L'efficacia dei medicinali per terapie avanzate deve essere dimostrata secondo le indicazioni del modulo 5. Tuttavia, per alcuni prodotti e per alcune indicazioni terapeutiche, può essere impossibile effettuare prove cliniche convenzionali. Lo scrive il legislatore. Impossibile effettuare prove cliniche convenzionali. Per me questo ha un significato chiaro. Significa che, probabilmente, pensare di utilizzare le stesse procedure standard che si utilizzano per le molecole quando si parla di cellule, può essere difficile. E probabilmente in sei anni l'Italia, l'Europa prima, ma anche l'Italia, avrebbe potuto provvedere a regolare diversamente la produzione e la sperimentazione delle cellule. Anche perché farle sottostare alle definizioni di farmaci significa farle sottostare a tutto un controllo anche da parte delle stesse strutture che controllano la messa in produzione, la sperimentazione e la commercializzazione dei farmaci. E probabilmente il cittadino ha avvertito questa forzatura. Ha avvertito questa forzatura sulla propria pelle, sulla sofferenza dei propri figli. Ma certo non si può pensare che questa distanza che si è creata tra il cittadino e il Parlamento, in questo caso di cui io oggi, in questo momento, faccio parte, sia un caso. E probabilmente è una distanza che si è creata per tanti e per troppi motivi. Che noi ci stiamo sforzando oggi, noi come Commissione Affari Sociali però, quindi con gli altri colleghi anche delle altre forze politiche, abbiamo dimostrato di volerci sforzare per superare proprio questo vuoto, questa distanza, derogando alla normativa. Perché ci siamo resi conto che la normativa non dava una risposta. E il Parlamento ha dimostrato una grandissima responsabilità in questo. Ha dimostrato di sapere dare, quando vuole veramente, la giusta attenzione ai problemi dei cittadini. Spero che quello che noi abbiamo votato in Commissione si traduca poi in un dato di fatto, ovvero che la sperimentazione continui come noi crediamo che sia giusto. Però non ci si può chiedere di derogare alla sicurezza. Noi non lo possiamo fare per onestà, per la stessa onestà e per la stessa trasparenza. Trasparenza che noi chiediamo anche al professore Vannoni del metodo Stamina, perché noi la trasparenza la chiediamo a tutti. Non possiamo fare sconti. Ci dispiace. Non possiamo fare sconti con nessuno. E se questo dovrà tramutarsi in una forma di impopolarità o di qualunque cosa sia per essere, noi non abbiamo paura perché sappiamo che lo stiamo facendo solo e nell'esclusivo interesse di tutti i cittadini italiani. Grazie. La ringrazio. Era iscritta a parlare la deputata Binetti, assente, quindi decade. È iscritta... Prego. Colgo l'occasione per ricordare di evitare, i deputati evitino di rivolgere le spalle al Banco della Presidenza e del Governo. Prego, deputata Binetti, ne ha facoltà. Grazie. 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 Grazie.